Beh, raccontare la scienza e la tecnologia in una maniera accattivante, cercare un dialogo con il territorio. Penso che questo era il messaggio e l'obiettivo che si poneva alla prima assemblea dell'Ateneo con il territorio. Penso che l'ha raggiunto molto bene. E da un punto di vista anche visivo, io sono rimasta molto colpita e do un plauso all'università, alla rettrice, a chi ho organizzato questo evento, per essere riusciti a organizzare un evento molto accattivante anche da un punto di vista di comunicazione ad un altro livello. Il finto arrangiamento casuale di sistemazione delle persone, l'allestimento con i tavoli rotondi e la sistemazione di video all'interno dell'aula che ha portato poi le persone a guardarsi negli occhi e che ha portato poi a un dialogo molto più di body language, oltre che verbale, è stato sinceramente un impatto molto più efficace nella comunicazione di quello che è la tecnologia, di quello che è l'università, di quello che è la ricerca e di come appunto si vuole poi trovare una maniera più efficace di raccontarla sul territorio. Il racconto della tecnologia e come comunicare la tecnologia è una sfida, è la sfida che hanno tutti i technology e chi si occupa di ricerca, è la sfida che ha anche il Trentino sviluppo in quanto interfaccia con il mondo del territorio, è una sfida che c'è da sempre ed è una sfida che è percepita più che altro come un gap tra il mondo, chiamiamolo, della ricerca e chiamiamolo il resto. In realtà è un problema solo percepito perché è un problema di linguaggio, di comunicazione e soprattutto un problema di cultura. Ecco, cambiare la cultura è una cosa che è molto difficile, si fa in molti modi, si fa con molti linguaggi come il linguaggio appunto scelto anche in questo caso dall'università, un linguaggio innovativo. Come Trentino sviluppo, come guida dell'innovazione non posso che supportare, fare plauso e soprattutto essere chiaramente sponsor e in tutti i modi di supporto al continuamento di questo dialogo. Ci credo talmente nella comunicazione tecnologica e arrivare a una comunicazione tecnologica in molti livelli che all'interno della struttura stessa si è creato recentemente una riorganizzazione dove si è creata un'area a parte che è di promozione tecnologica, che non è solamente la comunicazione PR, ma è proprio una comunicazione tecnologica in modi diversi sul territorio. In questo vanno sfruttati a sinergia tutti gli attori del territorio, l'università e anche i nuovi investimenti fatti come per esempio il Muse, tutte le piattaforme che possono essere utili per raccontare del mondo tecnologico in una maniera diversa e per creare veramente un dialogo con tutti gli attori, perché alla fine knowledge is power e la condivisione della conoscenza è lo step iniziale e principale per creare veramente un mondo sostenibile, un mondo dove appunto i giovani possono anche creare dei lavori diversi e dove alla fine ci guadagniamo tutti. Il Trentino sviluppo chiaramente è di supporto, sarà di supporto, promuoveremo sempre di più penso e spero con l'aiuto dell'università, promuoveremo anche la promozione tecnologica usando chiaramente tutte le piattaforme possibili.